Il cortile dell'Alchivia, la città di Fano, tornerà indietro nel tempo? Certo. Fano, io l'ho sempre considerata, ogni pietra è una spugna che assorbe storie. Storie che hanno 2300 anni e poi arriviamo fino a noi. Un secolo straordinario è il XVII secolo per Fano perché la nostra città è stata attraversata da personaggi straordinari dell'epoca. L'1600 ci sono almeno tre personaggi. Uno è appunto questo, l'abate Domenico Federici, poi Giacomo Torelli e Guido Nolfi, per citarne alcuni, ma ce ne sono molti altri, che hanno storie infinite da raccontare. Ed io, siccome mi diverto a raccontare storie, ho iniziato a raccontarle. Dove e a che ora sarà l'appuntamento? L'appuntamento sarà nel cortiletto d'ingresso della Biblioteca Federiciana, accanto al Comune di Fano. A che ora? Alle ore 21, esattamente alle ore 21. Il tutto terminerà intorno alle 23.